Come funziona la potabilizzazione dell'acqua e come vengono indirizzati i flussi idrici anche in questa fase molto particolare, periodo estivo, laddove insomma il tema della seccità è molto ricorrente. Temi e strategie dietro a tutta un'organizzazione finalizzata poi a portare l'acqua nei rubinetti delle nostre case. Ben ritrovati con H Corrente, il settimanale di analisi di approfondimento di Super G, tutto dedicato ovviamente al bene primario. Ospite di questa puntata è Annalisa Amadio che è responsabile del servizio di potabilizzazione della Ruzzo Retti, ben arrivata. Grazie. Lo abbiamo detto nella premessa, dietro all'acqua potabile, l'acqua che arriva ovviamente nei nostri rubinetti c'è tutta un'organizzazione, insomma che come dire sembra sotto questo punto di vista semplice ma in realtà molto semplice non lo è, c'è tutta un'organizzazione dietro, cioè come arriva l'acqua nei nostri rubinetti? Sembra una domanda banale ma invece è un elemento molto molto interessante. Sì certo, assolutamente. Allora il processo per portare l'acqua all'interno delle abitazioni parte da lontano, quindi dalle opere di captazione. L'acqua viene prelevata in quelle che sono le fonti di approvvigionamento idrico a disposizione della Ruzzo Retti e viene incanalata in percorsi importanti che appunto dall'alta quota riescono a raggiungere i serbatoi di accumulo che diramati nel territorio in maniera studiata e ragionata consentono poi di erogare al diciamo classico rubinetto dell'utenza. All'interno dello schema idrico della Ruzzo Retti le fonti di approvvigionamento sono quelle dell'acqua naturale, quindi acqua di montagna che in alcuni casi, la stragrande maggioranza dei casi, necessita di disinfezione, quindi di un trattamento tra virgolette semplice di copertura affinché l'acqua arrivi il più possibile sicura all'interno dell'abitazione e in alcuni casi invece di acqua che è sempre naturale ha bisogno di un trattamento più spinto, più complesso che è quello della potabilizzazione ed è questa diciamo la parte che interessa il mio servizio, quindi parliamo dell'acqua derivata dallo schema idraulico dell'Enel, schema idraulico che interessa una parte del comparto montano del nostro territorio, siamo all'interno del bacino idrografico del fiume Vomano, queste acque comunque di origine naturale vengono derivate e fatte confluire ad un impianto, un vero e proprio impianto di trattamento che viene chiamato potabilizzatore, è un impianto ubicato nel comune di Montorio al Vomano in località Colle di Croce, quindi all'interno del nostro territorio di competenza, è un impianto che nasce da lontano da un'intuizione che già negli anni 90 aveva previsto la necessità, l'opportunità di dotarsi sul territorio di un impianto che potesse diciamo supplire all'eventuale carenza delle sorgenti, quindi già 30 anni fa si studiavano eventuali fenomeni di cambiamento climatico che potevano o avrebbero potuto, si temeva, influenzare anche la disponibilità idrica. Quindi oggi l'impianto che era nato come fonte di emergenza è diventato fonte suppletiva ordinaria, quindi oggi è quello che nella provincia di Teramo garantisce diciamo di affrontare anche faticosamente ma comunque con autonomia un momento comunque di difficoltà e di maggiore sofferenza idrica. Poi sotto questo punto di vista andiamo anche a analizzare il funzionamento vero e proprio del potabilizzatore. Lei parlava ovviamente dell'origine dell'acqua, della captazione, ci sono poi dei punti ben specifici. Nelle precedenti puntate parlavamo anche con i dirigenti di Dalluzoreti il fatto comunque di andare a intervenire anche in nuove forme di captazione, si parlava della montagna di campi, della montagna dei fiori, ma al momento attuale insomma l'acqua da dove arriva, dove viene captata? Allora l'acqua arriva appunto dallo schema idraulico dell'Enel, quindi parliamo di tutta la zona montana che interessa i comuni di Montorio, Fano Adriano, quindi quel versante montano è interessato da schemi idraulici anche piuttosto datati, quindi pensati già negli anni 50, negli anni 60 per la produzione di energia idroelettrica, quindi con grande disponibilità attraverso dei diciamo dei bacini di degli invasi di accumulo che poi progressivamente si avvicinano alle centrali sempre più a valle del sistema, quindi parliamo di accumuli di acqua importanti dai quali noi deriviamo quella parte di acqua che a noi necessita per diciamo sopperire al fabbisogno idrico del territorio, quindi parliamo di acqua comunque di origine naturale, di origine montana, che però appunto raccoglie gli afflussi di quello che è il bacino idrografico del fiume Vomano, quindi un'acqua che non ha propriamente l'origine di sorgente di montagna, ma raccogliendo anche le criticità di un'acqua che scorre, poi viene derivata, quindi scorre comunque su un substrato, un subalveo fluviale, quindi ha delle caratteristiche non perfettamente compatibili per un uso diretto e viene quindi fatta poi, diciamo, viene innestata in un sistema di trattamento attraverso poi la derivazione che arriva all'impianto di Montorio. Il piatto di Montorio che insomma nel corso degli anni, lei diceva, insomma era stata un'intuizione già di 30 anni fa, quando alcune tematiche che stiamo vivendo adesso con la carenza idrica, insomma sembravano lontani anni luce nel pensare comune, invece già c'era ed è stato oggetto anche di investimenti importanti, in questo momento il potabilizzatore di Montorio è l'unico operativo in Abruzzo. Sì, assolutamente. Sì, infatti era nato, quindi dicevo, negli anni 90 già con una idea progettuale di traguardare degli ampliamenti, quindi a cavallo tra gli anni 90 e i primi anni 2000 fu realizzata, sempre innestandosi in linee di finanziamento nazionali, la prima linea di produzione con una capacità superiore a 700 litri al secondo e poi sempre nella logica con cui l'impianto era nato negli anni 90 si è proceduto in ulteriori scelte progettuali, fasi progettuali che hanno portato poi al collaudo della seconda linea di produzione nel 2010, quindi l'impianto speculare alla prima, quindi l'impianto oggi è operativo con una capacità superiore a 1400 litri al secondo. Questo tipo di attività poi consente insomma di garantire, come dire, il fabbisogno idrico a tutta la provincia. Sì, perché di fatto con opportune manovre di regolazione all'interno dello schema idrico della Ruzzoreti l'acqua del potabilizzatore può essere inviata anche diciamo in zone che normalmente non usufruiscono di quell'acqua. L'acqua del potabilizzatore si innesta nell'asta del fiume Vomano e quindi interessa prevalentemente l'asta appunto del Vomano e la fascia costiera in direzione sud e in direzione nord. Poi sulle questioni legate a quelle che sono i flussi idrici faremo una riflessione a parte. In momento in cui poi l'acqua arriva al potabilizzatore, poi insomma viene poi nelle condotte, arriva nei rubinetti diciamo così insomma. Leggevo alcune caratteristiche, insomma ovviamente c'è un grande controllo su quella che è la qualità dell'acqua, no? Accanto al discorso dell'autocontrollo poi ci sono le verifiche da parte dell'ASL, insomma circa 2000 controlli l'anno più o meno insomma, no? Sì, l'acqua del potabilizzatore come impianto proprio per autorizzazione ricevuta e prescrizione ASL riceve dei controlli giornalieri sull'acqua in ingresso e sull'acqua in uscita. Anche l'ASL interviene settimanalmente più volte per la verifica della qualità dell'acqua erogata proprio al punto di uscita dell'impianto di immissione nella rete. Questi controlli consentono di monitorare costantemente la qualità dell'acqua e quindi intercettare eventualmente in via preventiva una qualunque problematica che consentirebbe l'interruzione dell'erogazione perché il punto di immissione nella rete dista diverse migliaia di chilometri dal punto in cui l'acqua potrebbe iniziare ad influenzare l'eventuale flusso generale dell'acqua. Quindi ci sono tutte le garanzie perché un'eventuale problematica possa essere intercettata per tempo. Fatto che comunque insomma non ci troviamo fortunatamente a gestire perché l'impianto è molto efficiente, viene gestito da personale estremamente strutturato con grande attenzione. Abbiamo il riscontro quotidiano dell'ASL, quindi un impianto su cui possiamo essere assolutamente tranquilli come qualità dell'acqua. Quest'acqua poi appunto si innesta nel flusso dell'ulteriore acqua che arriva nei serbatoi della Ruzzoreti e quindi si va ad innestare con gli ulteriori flussi che arrivano da altre forme di approvvigionamento come quello appunto da sorgente. Da sorgente. Esiste anche un altro potabilizzatore che è stato in funzione in passato a Isola del Gran Sasso e in questo momento insomma comunque è sospesa la funzionalità di questo potabilizzatore, no? Sì, è un impianto nato per approvvigionare da una fonte molto, di qualità molto alta, di alta montagna nota come fonte nera, il cui utilizzo però è stato interrotto anche per mancata necessità di quell'apporto idrico, situazione che si è poi ribaltata nel tempo anche per l'andamento ciclico e ciclicamente in diminuzione delle sorgenti diciamo storiche a cui l'azienda fa comunque riferimento per il proprio approvvigionamento idrico per cui si sono riaccesi un po' i riflettori sull'opportunità sia per la qualità dell'acqua che per la quantità che verrebbe immessa nello schema idrico di riattivare un impianto così strategico Un impianto strategico insomma che potrebbe fungere anche insomma da emergenza ulteriore noi abbiamo parlato e toccato all'inizio dalla nostra chiacchierata la questione legata alla carenza idrica che è un fenomeno ovviamente nazionale che torna di grande attualità soprattutto in questo periodo estivo di grande siccità fino a questo momento insomma come dire questo tipo di problematiche la rete non sembra soffrirle, no? No, noi anche grazie ecco alla fonte di approvvigionamento suppletiva qual è quella del potabilizzatore con regolazioni molto oculate da parte di diciamo di personale che conosce attentamente anche i punti di debolezza di alcuni serbatoi in funzione anche del fabbisogno che in alcuni periodi dell'anno a cui questi devono rispondere in alcuni periodi dell'anno per l'aumento anche del flusso turistico grazie insomma a diverse attività regolatorie di regolazione riusciamo a intervenire, a sopperire quindi a evitare quella sofferenza che magari riscontriamo in altri territori gli impianti di potabilizzazione sono diventati ormai strategici in grandi città anche di altre regioni si trovano a gestire anche acque di qualità estremamente bassa di fiumi anche estremamente inquinati pur di garantire la presenza di una quantità di acqua rubinetto dell'utenza noi ci troviamo ad avere la disponibilità idrica con un'acqua che comunque è di qualità perché diciamo andiamo ad innestarci in uno schema idraulico che preleva comunque acqua di quota quindi diciamo che ci troviamo in una situazione fortunata certo questo aspetto poi ovviamente anche alla Ruzzoretti è previsto degli investimenti importanti parlava anche il direttore generale ma anche il presidente in precedenza sulla cosiddetta litoranea e quindi insomma di andare a toccare quelli che sono le estremità anche della rete parliamo sempre di Martinsicuro oppure delle zone che costeggiano il fiume Tronto dall'altra parte c'è anche il fatto insomma durante l'estate di garantire un servizio lei parlava ovviamente dei flussi turistici, della crescita esponenziale della popolazione e dei consumi maggiori insomma no? Sì Servizi turistici significa insomma anche avere un servizio efficiente sotto questo punto di vista Sì assolutamente quindi la Ruzzoretti deve trovarsi pronta a garantire diciamo il servizio di cui risponde al cittadino e quindi sono stati messi in campo tutti gli strumenti che attualmente è possibile gestire al meglio proprio per garantire l'interrompibilità del servizio di un servizio pubblico così essenziale a maggior ragione in una stagione così climaticamente così calda quindi assolutamente essenziale L'altro elemento importante è quella anche della qualità dell'acqua che arriva sui rubinetti delle case insomma questa si può bere insomma leggevo anche il fatto insomma che può essere paragonabile è una normale acqua oligominerale che insomma viene acquistata al supermercato lei prima faceva riferimento di tutta l'attività di controllo sia di autocontrollo di verifiche della ASL e poi insomma l'acqua presenta delle caratteristiche molto particolari questo è un altro elemento importante da evidenziare a chi magari ci ascolta da casa Sì, allora l'acqua è un'acqua assolutamente buona da bere è un'acqua di origine naturale, ripeto, con caratteristiche oligominerali sottoposta a controlli rigorosi che sono quelli del decreto legislativo 31-2001 quindi controlli rigorosi sia da parte del gestore che da parte della ASL controlli quotidiani non solo sull'impianto di trattamento ma anche sulla rete in punti strategici questo è un elemento che caratterizza proprio l'acqua erogata da un servizio idrico integrato dal gestore di un servizio pubblico rispetto ad acque diciamo in bottiglia che seguono dei percorsi di controllo completamente diversi quindi è un'acqua già nell'impianto di trattamento noi abbiamo controllo strumentale molto avanzato con monitoraggio in continuo abbiamo analisi quotidiane sull'acqua in ingresso per intercettare eventuali problematiche che devono essere poi tenute in considerazione nel processo di trattamento abbiamo controlli durante il processo di trattamento da laboratorio interno asservito al potabilizzatore che opera proprio all'interno del sito del potabilizzatore anche per altre attività della rete ma molto anche per il potabilizzatore abbiamo controlli in uscita interni con il nostro laboratorio con un laboratorio esterno accreditato e con la ASL vengono monitorati i parametri della durezza della conducibilità dell'acqua la presenza di metalli ovviamente la disinfezione che è poi l'elemento diciamo base con cui l'acqua arriva sicura ai rubinetti dell'utenza quindi è un'acqua che è assolutamente raccomandabile bere anche per un discorso sostenibile ambientale di territorio noi abbiamo un'acqua buona che arriva all'utenza e di cui l'utenza può usufruire a cui l'utenza contribuisce perché quella stessa acqua viene diciamo anche sostenuta dalla stessa utenza quindi che la riceve quindi è un ciclo sostenibile che si autosostiene all'interno del suo territorio quindi è una logica corretta anche di tutela ecco del nostro territorio insomma il messaggio che possiamo lanciare è ribadire insomma l'acqua del rubinetto può essere bevuta sì sì assolutamente dobbiamo bere l'acqua del rubinetto è un'acqua assolutamente sicura è assolutamente buona quindi un'acqua leggera nel caso proprio dell'acqua del rubinetto con acqua povera di solio insomma che ha ovviamente con poche possibilità di creare calcare insomma quindi ha delle caratteristiche importanti sotto questo punto di vista sì sì assolutamente un'acqua diciamo leggera non è un'acqua dura parlando in termini diciamo di più chimici è un'acqua con delle buone caratteristiche per come arriva l'utenza confermate quotidianamente dal riscontro anche di laboratori esterni alla Ruzzoreti come appunto quelli dell'Arta dell'ASL di Teramo quindi assolutamente un'acqua che possiamo su cui possiamo stare tranquilli compresa l'acqua del potabilizzatore che si innesta nel flusso complessivo ed è un'acqua assolutamente controllata sotto questo punto di vista e chiudiamo poi all'argomento poi dedicato alla potabilizzazione dell'acqua che tipo di trattamento poi viene assicurato ovviamente bisogna rispettare alcuni parametri ci sono durante il percorso e quindi l'immissione nella rete idrica dei flussi che tipo di trattamento deve essere comunque garantito per renderla poi potabile e rispettare i criteri di legge All'interno del sistema di distribuzione bisogna garantire una copertura di disinfezione quindi l'acqua viene clorata viene aggiunto ipoclorito di sodio comunemente detto cloro che garantisce, essendo una molecola diciamo stabile nel percorso che l'acqua fa fino ai serbatoi e poi all'utenza quella cosiddetta clorocopertura che assicura il controllo, il mancato sviluppo di eventuali specie microbiologicamente attive quindi batteri, virus che potrebbero inficiare la sicurezza dell'acqua in termini invece di potabilizzazione quindi su quelle acque che necessitano di trattamenti più spinti essendo acque caratterizzate dalla presenza di materia organica quindi quelle sostanze che danno l'aspetto visibilmente percettibile della torbidità sono acque che devono essere chiarificate quindi alleggerite di tutta quella parte che le rende torbide appunto per arrivare ad essere trasparenti al rubinetto dell'utenza quindi all'interno dell'impianto passiamo attraverso delle fasi complesse tecnicamente si parla di coagulazione e flocculazione quindi aggregazione delle particelle che diventando più pesanti possono decantare e filtrazione all'interno di letti di sabbia dove l'acqua appunto per gravità passa favorendo l'arresto di ulteriori materie in sospensione che vengono eliminate dal flusso dell'acqua su questo si innesta la disinfezione molto spinta all'interno del processo di potabilizzazione di Montorio perché viene realizzata in due fasi la fase iniziale l'ozonizzazione la fase finale con ipoclorito di sodio per la copertura della rete di cui parlavamo prima l'ozonizzazione è un processo tecnologicamente molto avanzato che partendo dall'ossigeno presente nell'aria atmosferica con un ciclo di trasformazione complesso che abbiamo appunto all'interno dell'impianto produce dall'ossigeno la molecola di ozono che inserita nell'acqua ha un'azione molto forte di disinfezione rispetto alle molecole attive quindi una capacità battericida e virulicida importante oltre che di ossidazione e aggressione della materia organica per favorire le fasi di trattamento successive quindi un impianto diciamo tecnologicamente adeguato ad affrontare comunque le problematiche che l'acqua in ingresso può avere insomma che offre sotto questo punto di vista grandi garanzie sì 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 assolutamente anche per la strumentazione su cui gli sforzi anche di investimento che sono stati fatti negli ultimi anni che hanno assicurato anche un potenziamento degli strumenti di controllo quindi a partire dalla strumentazione di misura che abbiamo potenziato sulla linea di trattamento per arrivare al sistema di telegestione abbiamo una postazione di controllo con operatore fisso che però gestisce l'impianto attraverso un sistema di programmazione quindi da postazione di controllo abbiamo potenziato il sistema di telecamere abbiamo sostituito componenti obsoleti dell'impianto lo sforzo è stato importante perché negli ultimi due anni si è riconosciuta la strategicità di questo impianto che come dicevamo è diventato ormai fonte di approvvigionamento stabile certo infatti sotto questo punto di vista una riflessione poi che ho avuto modo anche di fare con alcuni sindaci del territorio quella che era come dire una sorta di spauracchio durante il periodo estivo insomma di carenze idriche di lunghe interruzioni che poi avevano delle repercussioni soprattutto in ambito turistico ora sono veramente molto molto limitate e l'attività del potabilizzatore sotto questo punto di vista come diceva lei è molto strategica molto strategica perché appunto si innesta in quella che potrebbe essere una carenza di disponibilità dalla sorgente naturale e quindi riesce a compensare quelle che possono essere delle stagionalità anche di disponibilità di sorgente naturale e quindi assicura comunque una stabilità di servizio all'utenza perché garantisce una stabilità di riempimento ecco dei serbatoi asserviti allo schema idraulico appunto alimentato dal potabilizzatore Lei parlava ovviamente di qualità dell'acqua di sicurezza anche dell'immissione all'interno delle condotte proprio ieri insomma è stato presentato lo studio di fattabilità sulla messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso questo aspetto è una sorta di spauracchio anche perché onestamente in passato ci sono stati dei problemi importanti e la risoluzione di questa problematica potrebbe accrescere parecchie certezze in ottica futura insomma si aspetta questo intervento è stato anche come dire illustrato nella tempistica insomma con grande apprezzione Sì si aspetta per tranquillità dell'utenza perché comunque la comunicazione ha giocato un ruolo importante anche negli eventi legati al Gran Sasso quindi si è comunque instaurata una sorta di diffidenza nei confronti di una certa acqua diffidenza che ovviamente non è supportata dai dati reali perché parliamo comunque di un'acqua controllata alla fonte anche da sistemi tecnologicamente molto avanzati quindi parliamo di sonde multiparametriche di gas cromatografo di massa di sistema di biomonitoraggio ovviamente la messa in sicurezza garantisce quell'isolamento del comparto idrico da quelli che sono gli altri attori presenti all'interno del traforo del Gran Sasso e quindi diciamo quel tassello finale che poi dovrebbe assicurare la massima tranquillità nella disponibilità di quella risorsa idrica e su questo discorso si innesta anche la riattivazione del potabilizzatore di Casale perché essendo logisticamente vicino al punto di confluenza dei due sbarramenti da cui appunto si preleva l'acqua del traforo diventa strategico anche in previsione di un eventuale ulteriore miglioramento della qualità di quell'acqua con un processo di potabilizzazione Insomma questa sarà come dire una sfida importante nei prossimi anni alla luce poi dei finanziamenti che sembrano esserci Grazie, grazie Annalisa Maddio Grazie a voi Grazie per la sua presenza Acqua Corrente finisce qui io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento tra sette giorni sempre alla solita ora Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi